Torna il polifonico, sabato 18 e domenica 19 novembre, Arezzo infatti ospiterà il 34esimo concorso polifonico nazionale Guido d'Arezzo. Al concorso prenderanno parte 18 cori provenienti da tutta Italia. Siamo molto felici per questo numero che testimonia il fatto che la fondazione è ormai tornata a essere amata dai cori italiani, dai cori internazionali e che si fidano del risultato che esce dai nostri concorsi, che è ben organizzato, si canta in luoghi spettacolari e che trovano un clima accogliente. Da quest'anno abbiamo 18 cori, aumentato, rattriplicato da quanto ho fatto il primo concorso polifonico nazionale, quando erano solo 6 cori, adesso sono 18 cori e non solo numericamente ma anche come qualità sono molto bravi. Per quest'anno il concorso si svolgerà nella Basilica di San Francesco con alle spalle gli affreschi di Piero della Francesca. Sfruttando una piccola debacle di San Michele che ha dei lavori interni che non rendono possibile utilizzare quella sede, si è pensato, devo dire il maestro Donati e Dio, congiuntamente, di provare a fare questa operazione. L'operazione è andata bene ma grazie soprattutto alla disponibilità di Sua Eccellenza il Vescovo e del Dottor Cascio che è il direttore del Polo Museale Toscano che hanno dato la disponibilità di ridurre le frequentazioni agli affreschi e limitare altri tipi di accessi. Per cui la Basilica di San Francesco sarà dedicata a questo importante avvenimento e devo dire che sia per i coristi che canteranno, sia per il pubblico che ascolterà delle musiche bellissime anche del periodo nel quale furono dipinti quegli affreschi è una sensazione impagabile. I concerti saranno anticipati da un'ouvertura al Teatro Petrarca con l'esecuzione di La Buona Novella di Fabrizio Di Andrè in occasione del ventennale dell'insieme Vox Cordis.